Cari amici di Radio Maria, buona domenica, che la voce di Cristo risorto illumini le nostre menti, il suo amore infiammi i nostri cuori, alziamo gli occhi al cielo lungo il pellegrinaggio della vita che ci porta all'eternità ed è la strada che dobbiamo compiere anche se è stretta e se è impervia come ci ha detto Gesù. Oggi infatti l'Evangelo colloca Gesù nel suo viaggio a Gerusalemme quando appunto ha deciso che è raggiunto il momento di affrontare il sacrificio della sua vita e lungo questo viaggio ha tanti incontri. Oggi l'Evangelo ci presenta un incontro un po' particolare, cioè una persona le chiede, Signore sono pochi quelli che si salvano e si vede che Gesù aveva parlato appunto che la salvezza non è diciamo così gratis a buon prezzo come oggi noi pensiamo, possiamo dire anche nelle nostre catechesi cercando di come dire che l'amore di Dio è così grande che possiamo salvarci anche senza conversione. Gesù ha usato parole molto molto severe per quanto riguarda la salvezza cristiana che è una salvezza come dire è un dono ma è a caro prezzo, cioè esige come l'amore è esigente, così la salvezza cristiana che è un dono di amore è molto esigente, cioè esige la nostra risposta. Allora a questo interrogativo Gesù dice appunto che dobbiamo sforzarci per entrare nella porta stretta. Cioè anche in altre parti del Vangelo Gesù ha usato queste espressioni, cioè quella della porta della salvezza che è stretta ma anche quella della via che è ardua, che è una via in salita e quindi pochi passano per la porta stretta e meno ancora percorrono la via aerta. Allora ovviamente queste espressioni vanno comprese nel loro giusto significato cioè le anime mortali sono costate a Gesù un prezzo molto preciso che è il sacrificio della sua vita cioè Gesù sulla croce ha espiato i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi e li ha espiati con un dono d'amore che è perfino incredibile e noi dovremmo ripassarlo ogni tanto quei testi della passione di Gesù per vedere fino a che punto ci ha amato e fino a che punto ha dato se stesso per noi. Quindi Gesù dice non dovete illudervi di salvarsi solamente perché avete dato una decisione formale perché come dire praticate esternamente e siete ufficialmente diciamo nelle strutture ecclesiastiche lui ovviamente si rivolge soprattutto agli scrivi di farse del suo tempo tutto questo non serve se siete pieni di iniquità cioè adesso quello che vorrei proprio dire cari amici è che su questo punto qui non si può equivocare e non si può come dire nascondere la dottrina cristiana è che per salvarsi bisogna fare lo sforzo di aprire il cuore a Dio bisogna rinnegare se stessi bisogna dire no al peccato bisogna lottare contro il male lottare come ha fatto Gesù fino a sudare sangue cioè bisogna estirpare le male erbe del nostro cuore la cattiveria, tutti i vizi capitali, tutto ciò che c'è di marcio tutto il venere del diavolo noi non dico che dobbiamo essere vittoriosi totalmente dobbiamo impegnarci quindi la via della salvezza va affrontata con coraggio con grande fiducia nella divina misericordia ma nel medesimo tempo nessuno di noi può illudersi di salvarsi se viene come dire apattico il peccato e per peccato intendo il peccato grave perché il peccato è la morte dell'anima perché il peccato è lo strumento col quale Dio col quale Satana ci tiene schiavi quindi la salvezza passa attraverso la conversione e la conversione è dolorosa la conversione implica l'umiltà di riconoscere che siamo peccatori implica chiedere perdono a Dio implica la confessione implica il proposito per una vita dove si vivono i comandamenti tutto questo va fatto con molto impegno poi il Signore guarda anche la buona volontà poi è la grazia che compie i miracoli nei nostri cuori ma la via della salvezza è questa non ce n'è un'altra dobbiamo impegnarci in questo senso nella lotta contro il male oggi come vedete ve ne siete accorti anche voi non si parla più di peccato è come se i peccati non esistessero come se i comandamenti non esistessero e invece cari amici abbiamo dei nemici tremendi da combattere senza i quali non c'è futuro e sono la carne cioè il nostro io egoistico che prende sopra il vento sono il mondo che è chiuso a Dio e che ci attira nelle sue trappole è il demonio l'ispiratore delle tentazioni sono i misi formidabili che dobbiamo affrontare col coraggio e con l'aiuto della grazia con la preghiera con il combattimento spirituale quotidiano cioè morire al peccato morire al mondo come dire come dire strappare da noi le male erbe del male che ci tengono prigionieri guardate come ha detto il grandissimo Papa più andiamo avanti più vediamo quanto è grande San Paolo VI che ha detto il cristianesimo non è facile ma è felice lungo la via come dire della conversione lungo la via della santità qui ci chiama la Madonna noi man mano che combattiamo man mano che abbiamo qualche vittoria siamo contenti è una felicità che ci ruberà mai nessuno è la felicità di sentirsi vicini a Dio di sentirci approvati da Dio la felicità di avere il cuore in pace dunque cari amici non spaventiamoci di quello che ha detto Gesù cioè che la porta è stretta e che la via è in salita ma è come quando si va in montagna le vie in salita però quando si arriva in alto che i panorami si vedono è come se si è contenti è come se si è soddisfatti perciò come dice Caterina da Siena non addormentiamoci ma speroniamo l'anima sulla via della santità e con questo cari amici abbiamo terminato e chiediamo la grazia e la benedizione del Signore per l'intenzione della Beata Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Amen sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato Regina della Pace prega per noi grazie a tutti Grazie a tutti.